Allora, in diretta TF di Ribini abbiamo un iscritto al servizio premium di Professione Forex che si chiama Lucian e volevo chiedergli da quanto tempo Lucian fai la formazione con noi in Professione Forex? La formazione con Professione Forex la faccio da febbraio 2011, fino adesso mi trovo molto bene, praticamente le mie condizioni e anche il mio approccio sul Forex è cambiato tanto, le tecniche che si usa nella Professione Forex mi hanno dato più tranquillità nell'operare nel Forex, mi hanno insegnato praticamente di vedere questo Forex in un'altra maniera. Grazie, tu hai fatto so anche altri tipi di formazione riguardo al trading e al Forex, cosa puoi dire in questo senso del tipo di approccio che abbiamo in Professione Forex, soprattutto per gli utenti premium che seguono i seminari online due volte alla settimana, come te? Praticamente con Professione Forex ho imparato a usare bene le tecniche, tecniche che funzionano, che ti danno una certa tranquillità nell'operare nel mercato del Forex, praticamente più conoscenza a quello che è il Forex. Una domanda fuori programma, qual è la cosa che più è pericolosa o che spaventa di più nel Forex dal tuo punto di vista di utente? La cosa principale è che spaventa la perdita a tutti quanti, praticamente le persone non investono nella formazione o magari investono nella formazione sbagliata e non hanno la pazienza di capire come funziona il Forex, vanno dentro rischiando i propri soldi e succede che perdono. E poi sono cose amare, vero? Chiaro. Grazie. 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 Grazie.